che la cyber life abbia fornito un prototipo di androide detective alla polizia di detroit gli assistenti di polizia android sono operativi danni ormai ma questo sarebbe il primo caso autorizzato a giocare un ruolo attivo all'interno di un'indagine criminale abbiamo contattato la c'è un luogo dove saremo lì prova già è di più a 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 permesso scusi a 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